un saluto a tutti quanti voi bentrovati eh sì c'è delusione c'è grande delusione per come sta evolvendo la situazione relativa a massimiliano allegri nelle ultime ore come tutti quanti ormai voi saprete ci sarebbe stata questa telefonata se non è fantomatica se è reale questo non lo sappiamo perché la stampa l'ha riferito fra l'altro un organo di stampa e quindi eh come si può notare se davvero c'è stata questa telefonata di conferma sono reali le voci di una frammentazione chiarissima all'interno della dirigenza e della società tutti chiedevano l'intervento di Andrea Agnelli questo intervento come appunto notate c'è stato e avrebbe diciamo apparentemente messo ordine in quello che è il contesto allegri invece non è così è vero che potrebbe esserci diciamo l'ordine dici tu continuo ancora hai una fiducia a tempo ma a tempo cosa qui non c'è più tempo da perdere fiducia a tempo potrebbe avere alcuni significati innanzitutto il significato che se perdi se non migliori il gioco te ne vai in secondo luogo perché a Torino in questo momento non ci sono calciatori sono tutti nelle nazionali ne sono rimasti tre o quattro e quindi potrebbe essere che la situazione dal punto di vista burocratico va diciamo chiarita e si potrebbe ragionare sul fatto che stanno facendo i contratti con un eventuale nuovo allenatore o con la rescissione di Andre di Allegri ma questa è un'ipotesi diciamo favorita da un ottimismo ottimismo che comunque secondo me in questo momento non esiste e poi diciamo il il bordello fra virgolette Pavel Nedved sì perché Nedved aveva già chiesto l'esonero subito dopo il Benfica questa ormai voce non è più una voce l'ufficialità ne parlano stessi dirigenti Pavel non vuole più Allegri quindi diciamo che di fatto smentisce in pratica anche un mio intervento del 23 agosto scorso quando io dissi che lui era in sintonia con Andre Agnelli e con Allegri non è così però noi ci fidavamo di uno in prepartita nel quale lui disse abbiamo fiducia di Allegri quindi pensavo che la battaglia Nedved Allegri si fosse arenata invece non è così come potete ben notare e questo che vuol dire? Vuol dire che la situazione è fluida sotto l'aspetto del bordello non è che si stabilizza Agnelli non si dà per vinto in queste ore leggiamo gli sfoghi dei tifosi della Juventus e ne hanno ben d'onde naturalmente c'è chi travolge un po' tutti quanti io sono sempre dell'avviso che non bisogna buttare l'acqua con tutto il bambino perché la dirigenza e la società che da punto di vista finanziario stanno facendo secondo me un ottimo lavoro tanto è vero che all'assemblea dei soci degli azionisti la Juventus si presenterà con 250 milioni di passivo però non vi dicono l'attivo infatti se voi notate 250 milioni sono le perdite ma non vi dicono i guadagni perché poi la stamba ferisce dove ti vuole ferire e dato che deve proteggere Allegri in questo momento vi dice che Allegri non è solo il problema potrebbe essere la soluzione per molto 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 meno vengono attaccati lapidati messi in croce allenatori che sbagliano diciamo un millesimo in meno rispetto ad Allegri vogliono difendere Allegri chiamatemi pure Puerili hanno paura che la Juventus mandi via Allegri perché se manda via Allegri la Juventus ritorna competitiva sarò un pochettino sempliciotto ma a pensare male non si sbaglia quindi se diciamo tutto questo pianeta di informazione non attacca Allegri mentre con qualsiasi vedete che cosa stanno combinando i zaghi a Milano in zaghi è vero che ha perso tre partite partite scusate è meglio messo in campionato è meglio messo in champions però tutti quanti lo danno addosso per chi in zaghi non gode della stampa di Allegri anche se è molto più bravo di Allegri Allegri invece è il è la salvezza degli anti juventini lo sanno tutti e allora anche per lui ma che figura di merda che figuraccia che venduto è Allegri è un venduto perché uno che si è fatto fare un contratto pluriennale ma quel contratto pluriennale serve a salvare Andrea Agnelli l'ho detto a più riprese a salvarlo dal punto di vista economico perché secondo me c'è la sua percentuale c'è la percentuale di Andrea Agnelli in quella cifra e poi perché mantenendo lì l'allenatore non se ne va lui lui è stato messo in discussione due anni fa far venire Allegri e fidelizzarlo incapsularlo con un contratto di 4 anni e 9 milioni 7 più 2 di bonus significa incatenarsi sulla poltrona del presidente è una strategia si potrebbe dire per quanto gli riguarda questa gente è una strategia si potrebbe dire per quanto gli riguarda la gioventus questa gente vuole bene a se stessi perché io del primo Andrea Agnelli ho un ricordo eccezionale io sono umbertiano diciamo la verità a me è sempre piaciuta la gioventus di Umberto Agnelli perché è più diciamo arrogante più antipatica più decisiva nelle vittorie e Andrea Agnelli lo ha confermato non è umbertiano e sono meno propenso per gli giagnani e per i bonipertiani no? perché è più di stile più di fioretto per cui io comunque faccio il tifo per Andrea Agnelli lo dico apertamente ma nel momento in cui quando Agnelli, quando gli umbertiani si vedono traballare la poltrona sotto il culo diciamo così usano questi stratagemmi molto molto vergognosi e questo stratagemmi del contratto quadriennale ad Allegri è di fatto un autocontratto di Allegri di Agnelli scusate su questa vicenda Pavel Nedved che è un umbertiano sta impazzendo perché lui comunque non guarda all'interesse personale guarda alla sua immagine, all'immagine della Juventus lui è tifoso della Juventus lui con la maglia bianconera ci ha vinto un pallone d'oro e non a caso vengono fuori questi filmati vecchi di un Pavel Nedved ubriaco un Pavel Nedved che la notte fa i festini che fa i pompon e no qualcosa non torna perché Pavel Nedved chiede l'esonero dopo il Benfica e sconcerti una mignotta della penna un lestofante si presta al gioco di Allegri fare quella intervista guarda un po' dopo che Nedved ne ha chiesto l'esclusione dalla Juventus ma che bordello è questo? ma che stanno combinando? ecco perché io ho chiesto se andate a vedere i miei video precedenti ho chiesto l'intervento dei tifosi è il momento dei tifosi con Calciopoli i tifosi sono stati totalmente assenti ero rimasto uno dei pochi a combattere con Moggi nei tribunali nelle piazze nei ristoranti nei teatri chiamate Moggi e dite cosa succedeva e io ero lì il popolo bianconero in quella circostanza ha permesso quello perché se si bloccavano i treni si bloccavano le stazioni gli aeroporti le strade vedevi se mandavano la Juventus in Serie B senza aver fatto niente e questo è questa volta questa volta è come Calciopoli guardate la Juventus sta crollando bisogna assolutamente mandare via Allegri è quello il pezzo nefasto è quella la vergogna la presenza di Allegri legata ad un contratto di quella misura perciò devono scendere i tifosi benissimo l'hashtag relativa al nessuno allo stadio giusto stadio vuoto grazie a Juventus Live grazie a chi ha preso questa iniziativa che va sostenuta che va messa continuamente in in evidenza il problema è molto serio se non se ne va Allegri questa squadra rischia il fallimento il tracollo rischia una un maremoto uno tsunami deve andare via assolutamente se la società non vuole farlo perché Allegri Agnelli si è impuntato i tifosi devono scendere in campo perché la Juventus sono i tifosi e allora stadio vuoto contestazione ad oltranza contestazione continua sempre in maniera civile sempre nello stile Juventus deve andare via deve togliere il disturbo deve togliersi davanti alle palle a lei è la rovina utilizzato anche dal presidente perché lo sta utilizzando è vergognoso che è un presidente che io amo perché è Umbertiano ha il record di vittorie nove scudetti consecutivi che io non dimentico anzi apre una parentesi molti dicevano ma che non fa questi scudetti io voglio la coppa voglio lo scudetto voglio lo scudetto non me ne fotte della coppa dei campioni se la tenessero quella marchetta perché quella è una marchetta la coppa dei campioni perché il primato italiano perché per nove anni aprivano un giornale e vedevano a Di Bala aprivano un altro giornale e vedevano a Vidalla aprivano un altro giornale e vedevano a Borucce e vedevano un altro e vedevano a Tevezza andavano sui siti e vedevano a Giovingo andavano in un'altra parte e vedevano a Alec Sandro andavano in un'altra parte e vedevano a Liechtenstein stavano impazzendo stavano impazzendo vedevano stelle Juve Bianconero ovunque e così doveva continuare in Italia hanno rotto il giocattolo per Platini è stata l'imposizione del mercato però io questa cosa me la scendo fino a un certo punto chiusa parentesi Agnelli sta utilizzando decisamente Allegri sono i compagni di merenda ma i tifosi l'hanno capito e i tifosi devono continuare in questo atteggiamento mettete a mobbing la Juventus ferma stadio vuoto oppure entrati allo stadio contestate dal primo al novantesimo Allegri che contestate arriva bene Nedved Cherubini gente che lavora quelli sono dei lavoratori che stanno facendo le cose per bene non vi fate non vi fate condizionare da Allegri Allegri ha voluto che sei giocatori andassero via ha fatto la lista di proscrizione e la società li ha mandati via li ha ceduti tutte e sei ha voluto i giocatori che la società è andata a prendergli cioè il loro lavoro lo hanno fatto giusto il problema è che Allegri non è un manager ma Agnelli gli ha dato la medaglia da manager e fu manager cioè si permette in sala stampa di dire quale partita è buona e quale non è buona quale è da vincere e quale non è da vincere si permette questo giocatore è buono e questa è una riserva quelle conferenze stampa e andate a vedere lo dico da anni e anni sono la vergogna sono la rovina della Juventus perché siete anche voi che eri tifosi condizionati dalle conferenze stampa sì siete condizionati perché lui l'ha fatto credere l'anno scorso con un organico che era il migliore del campionato italiano anche quando Ronaldo se ne andò via per la presenza di Allegri perché se ne andò via per la presenza di Allegri è inutile che ci è girato intorno si sa questo allora era la migliore anche l'anno scorso invece faceva credere che era da quarto posto che il quarto posto era lo scudetto perché lui faceva esperimenti cioè questo qui ha per giustificare il suo fallimento ha fatto mandare via i giocatori perché dice dicevo avevo giocatori scarsi e leggo sui social che Arturo era scarso che Rabiò è scarso che Zagari è scarso mostra la leggenda che Vlaovic è rubidone che tutti scarsi tutti scarsi perché lui non vinceva le partite tutti i buoni erano tutti tranne uno l'innominato l'unico che porta male che se ne è andato per fortuna poi erano tutti i buoni tutti quanti è lui il male assoluto è lui il marcio cioè mandano via ha smantellato una squadra ha mandato via tutti i giocatori che hanno vinto con Sarri più Zagaria arrivò Zagaria come il salvatore della patria l'anno scorso distrutto li distrugge tutti oggi si parla di Cancelo come tra i migliori esterni al mondo lui colui era una rovina Spinazzoli liquidato per dirne due per non dire l'esterno del Bayern di Monaco Koeman dice ma era di passaggio non ha saputo vedere che quello era un campione ma che stiamo scherzando per dire tre per non parlare di Cunosesco per non parlare ma guardate qui c'è da fare di scrivere un libro sulla vergogna di questo uomo ma queste cose le sapete già è inutile che ve le dico però io poi mi lascio trasportare diciamo dall'odio calcistico verso questo personaggio cioè questi giornali stampa televisione attaccano allenatori per molto meno mentre questo debosciato viene salvato ogni volta ma anche Mediaset che solitamente è contro la Juventus in una maniera indegna Mediaset patte crociate contro la Juve con la Moviola la Movioletta i gli scendiletti là dentro quelle figure vergognose anche anche lì lo salvano la colpa di tutti vanno divise le colpe cioè non dicono che è lui la colpa è solo lui la colpa allora i tifosi devono scendere in campo subito presto contestazione alla continassa contestazione sotto casa di Allegri deve essere contestata deve essere messo in condizione di non poter lavorare più perché meno lavoro e meno danni fa la Juventus questo più è presente la Juventus è più distrutta la sua presenza è la distruzione della Juve solo la sua presenza solo che passeggia la continassa fa danni fa solo danni è dannoso non ci deve più stare i tifosi devono capire questo fate girare questo video ditelo a chi comanda a Torino nelle curve non deve più starci il socio il compagno di merenda di Agnelli non ci deve più stare la stambella è l'ancora di salvataggio di Agnelli è l'ancora di salvataggio perché Agnelli è a fine corsa e ha blindato il contratto di questo invertebrato è un'associazione a delinquere i tifosi devono intervenire perché la Juventus sono i tifosi non è più possibile fargli fare quello che vogliono fa telefonatine o conferma ma telefonata ma qua telefonata i tifosi subito azioni ma non l'azione che non ci va allo stadio l'azione che non ci va allo stadio è un completamento bisogna contestarlo bisogna andare in mezzo a Torino dove si va a prendere il caffè e dire te ne devi andare deve sentire il fiato dei tifosi della Juve non è possibile ancora farlo rimanere un solo minuto fa danni fa danni la sua presenza è un danno la sua presenza mette in discussione la vita della Juventus solo che sta a lui è dannoso per la Juventus deve scappare deve scomparire basta non c'è più tempo da perdere il tempo è finito basta la misura è colma il fondo è raschiato c'è tutto sto bordello è arrivata la telefonatina se è vera sta telefonatina perché io so di riunioni continue e costanti per il cambio di panchina è questo che io so le mie fonti che sono fonti che difficilmente sbagliano si è messo di traverso Agnelli e sta dicendo no d'altra parte il presidente quindi all'ultima parola chi è che lo può mettere in minoranza non c'è un consiglio direttivo o un consiglio di amministrazione della Juventus c'è della Exor ma là è un'altra cosa io credo che se terranno l'invertebrato sulla panchina a parte le contestazioni che ci saranno perché sarà bordello totalmente anche alla riunione degli azionisti sarà evidenziata la presenza di di Allegri nella Juventus cioè è una presa in giro è una presa per culo che dopo che ci sono 15 16 18 milioni che aspettano l'esonero di questo invertebrato arriva a telefonatina ma a telefonata che basta il tempo è finito il tempo è scaduto deve andare via deve sgomberare deve prendere la valigia e andarsene la sua sola presenza è un danno i giocatori sono ossessionati non lo può vedere nessuno la canzetta i giovani sono con lui i vecchi no ma qua giovani Miretti perché è amico del procuratore gioca per questo ma se nella Juve gioca Miretti la Juve è sesta settima lo dissi tempo fa ma levata stu Miretti la nanzi palle cortesemente nella Juve devono giocare i campioni questa è la Juventus Michelempoli con tutto il rispetto per l'Empoli e via dicendo e basta che ogni squadra viene a Torino comando Rovella che nella Juventus era un oggetto non identificato gioca col Monza e del migliore in campo per dire Rovella ma che stanno scherzando ma questa è una truffa questa è una truffa la Exor sta immettendo milioni e milioni e milioni nella Juventus li stanno sperperando ve lo dice un Umbertiano perché io sono per Umbertiano che allegra Agnelli la mamma di Andrea Agnelli la signora Lega non va allo stadio se il figlio non è il presidente non ce ne fotte proprio più non ce ne sbatte perché lei va allo stadio solo quando stanno gli Umbertiani al governo della Juventus non so se questo lo sapete d'accordo la linea deve essere questa Live Juventus e altri devono assolutamente continuare ma non con la linea morbida non si va allo stadio ci vuole la linea dura contestazione civile sempre nella norma per carità all'uomo al dannato al ladro all'assassino della Juventus perché solo la sua presenza lo ripeto a costo di essere continuamente lagnante la sua presenza è la rovina della Juventus come entra nella continassa porta quella negazione questo è il diavolo non è un allenatore non è un uomo è un diavolo è un satana questo è Allegri un satana un satana ma Allegri si ricordi si ricordi che il guadagno facile va in crusca 9 milioni all'anno senza fare niente per distruggere una squadra il guadagno facile va in crusca non se lo godrà ma non perché muore per carità Allegri deve campare 100 anni per carità ci mancherebbe ma non se lo godrà perché lo sta scippando dalle tasche della Juventus danneggiandola più non posso così non va deve andare via toglietelo di mezzo toglietelo di mezzo dalla Juventus questo qua basta ora basta altra telefonatina fate l'amore per telefono non parlate della Juve lo dico a Daniele lo dico a Allegri se vi volete bene ma non ci scassate l'anima non ci scassate i palle perché siamo insultati sfottuti da tutti per questo atteggiamento quindi basta e i tifosi sono con voi andate avanti contestazione ad oltranza contestazione ad oltranza contestazione ad oltranza contro questo schifo schifo di cui tutto il mondo sta parlando e forza Nedved forza Pavel perché Pavel è rimasta la voce di tutti a a a a